Quando si parla di dannunzio, nulla è scontato e in occasione del centenario dell'ingresso a fiume del Vate, l'associazione Fly Story aveva organizzato un singolare volo giovedì da Pescara fino alla città croata, ma proprio in Croazia gli aerei sono stati bloccati. Eppure Sirolli, presidente dell'associazione Fly Story, aveva precisato che il raid aereo intendeva non rivendicare i territori oggi croati e sarebbe stato anacronistico, ma si voleva mantenere vivo e indelebile il ricordo di quella culla culturale intrisa di italianità, con un abbraccio sia tra i mille italiani presenti sia a tutta la comunità croata. Evidentemente per i nostri didi e rimpettai non è stato così e Sirolli ci racconta questa disavventura. L'aereo che è partito da Pescara, che a bordo aveva me, un altro pilota che è Giuseppe Failla e Paolo Caldarale, siamo stati bloccati in mare aperto al confine con la Croazia. Pur avendo un piano di volo autorizzato entrando in Croazia ci hanno detto che lo spazio aereo croato era chiuso per noi. A quel punto abbiamo chiesto la motivazione, ci hanno detto che ci avrebbero richiamato, ma non ci hanno richiamato per tanto tempo, siamo rimasti un quarto d'ora, forse anche più, a girare a vuoto in mezzo al mare senza avere una spiegazione. Fino a quando ci hanno semplicemente detto che è confermato l'impedimento per noi a entrare nello spazio aereo croato. Questa, come diritto internazionale in campo di aviazione, è una cosa gravissima perché ci deve essere una motivazione ben concreta, un pericolo reale che non penso che è un'associazione culturale e sportiva conosciuta ormai da vent'anni che ha sempre fatto questi voli in tante nazioni dove ci hanno solo abbracciato e abbiamo condiviso tantissime cose sia da trattare in questo modo. Ma i nostri colleghi che invece avevano aerei partiti da altre località, uno da Barcellona e un altro da Casale Monferrato, invece sono riusciti ad atterrare, cioè sono stati in pratica arrestati, trattenuti lì direi anche in malo modo perché senza né dargli da mangiare né da bere, accompagnati perfino in bagno dalla gendarmeria. Tanto che è dovuta intervenire alla stessa Farnesina per sbloccare il tutto. Purtroppo c'è stato però un episodio e lei lo ricollega di qualche, forse alla notte prima, di qualche faccino roso. Sì, lì a Fiume c'è stato un gruppo politico, io non conosco, non so qual è, che è andato a dissare una bandiera italiana al palazzo di governo. Però, ripeto, noi non sentiamo nulla in tutto questo. Hanno setacciato i nostri aerei lì arrivati a fiume, hanno setacciato borse e tutto. Ovviamente non hanno trovato nulla di aversivo ma hanno sequestrato, pensate, le maglie. Ma questa maglietta diceva semplicemente Fly Story, volo a Vienna dello scorso anno per il centenario.